ben ritrovati a tutti da marcus buona domenica i prossimi 90 allora il 90 è arrivato su firenze come vi avevo detto adesso seguiamo il percorso dei vari 90 che sono usciti partendo dal 4 marzo allora guardate questo il 90 e dovrebbe ricadere di nuovo su mi sembra torino caglia rivediamo 50 senza fare tutto il giro è quasi arriva 55 già senza contare la ruota nazionale perché super 55 numeri quindi da bari a venezia sono 55 numeri se voi avete un numero maggiore del 55 fate altro che ripetere 55 dove il numero oltrepassa il 55 quindi in questo caso abbiamo 90 oltrepassa di brutto il 55 quindi 55 60 65 70 75 80 85 90 90 a torino e 90 a cagliari vediamo allora 12 già il colpo è arrivato a cagliari avete visto ci ha messo un attimo arrivare poi cosa è successo è successo che la volta scorsa come vi avevo detto il 90 andava a finire su firenze roma perché 55 60 65 70 75 80 85 90 roma roma e firenze roma e firenze e infatti 12345 dopo 5 colpi è arrivato il 90 a firenze perché c'era l'altra condizione che la volta dopo non contate questo che non ci ha dato nessuno non sei un frutto perché è in ritardo con il torino questo di napoli andava a finire su roma se non sbaglio vediamo un po' è un po' è arrivato a finire adesso questo è l'ultimo 90 quindi 55 60 65 70 75 80 85 90 allora abbiamo ottenuto il sospeso questo 90 perché questo 90 va a finire a roma quindi c'era la confluenza se di firenze e roma attenzione perché roma rimane buona quindi c'è roma ancora da uscire poi c'è questo che va a finire a venezia e combinazione 47 più 43 cade e decina calibrata 90 allora abbiamo questo 90 che arriva a venezia quindi quello di ieri e l'altro questo il sospeso che arriva su roma quindi ci sono due ruote interessate ma c'è anche milano vi ricordate milano no milano l'avevamo lasciata che era ottivamente livellata state attenti quindi milano roma venezia questo è in ritardo ma adesso dato che abbiamo il 47 43 che quindi che fa la decina come dico io a decina calibrata più gli arriva il 90 a venezia abbiamo un altro 90 pronto quindi c'è roma c'è venezia e c'è milano queste tre ruote saranno le prossime col 90 il 90 vi ripeto arriva venezia e c'è la doppia condizione con il con il 43 più 47 che da 90 bene questa è una previsione che sto valutando bene di dare nel gruppo privato quindi le previsioni che rimangono col 90 sono queste qui firenze anzi la cancelliamo subito lo facciamo subito qui così almeno non vi confondo questo era il vecchio della vecchia classifica 90 infatti ha dato accendiamo la luce vedete firenze adesso la cancellata milano rimane ben livellata ragazzi questa questa è davvero forte su milano poi c'è roma perché c'è la doppia condizione vi ricordate no e poi c'è venezia adesso venezia c'è il 90 che arriva venezia e la condizione di decina calibrata 47 più 43 vi ringrazio per avermi fatto notare questa cosa siete stati più di una persona che mi avete fatto notare questo vi ringrazio su telegram stamattina mi avete scritto vi ringrazio per avermi fatto notare questa cosa quindi non solo arriva al 90 perché 55 60 65 70 75 80 85 90 arriva su venezia ma abbiamo la doppia condizione 47 più 43 che da il 90 il 90 probabile con la cinquantina state ben attenti cinquantina e parte della decina 1 da 10 a 19 adesso valuterò bene cosa giocare quella potrebbe essere come vi ripeto la previsione del gruppo privato ok quindi sto valutando già bene da adesso cosa quali numeri scegliere perché non c'è solo la cinquantina devono tirare fuori i migliori della cinquantina e i migliori della decina 1 da 10 a 19 io quanto pare l'ho già trovati ve li darò poi nel gruppo privato mal 90 forte adesso a venezia rimane a roma e milano perché milano dava la livellatura importante e noi adesso lo andremo a vedere con l'otto più più gold grazie a questo programma di roberto eccolo qui che ci viene sempre il nostro aiuto nelle molteplici funzioni che ha ormai ve lo dico sempre perché questo programmino è veramente eccezionale allora questo questo innanzitutto il 90 di venezia guardate a 36 presenza quindi ormai al limite di uscita ma ve l'ho detto c'è un battacontata che arriva e c'è la somma 90 quindi abbiamo doppia condizione che possa arrivare su venezia noi torniamo indietro andiamo a finire sulla ruota di roma vediamo adesso roma con il 90 guardate bellissima roma che arriva alla doppia condizione ve l'ho detto c'è anche roma che è bellissima quindi roma venezia sono le due ruote che potrebbe uscire il 90 e poi andiamo a finire a milano milano perché è veramente bello guardate questo è milano milano bellissimo e c'è una bella frequenza davvero queste tre ruote sono le più forti poi quella nel gruppo privato che mi piace davvero è quella di venezia perché è la doppia condizione del 90 uno perché gli arriva un battacontata secondo perché c'è proprio la c'è proprio la decina calibrata che va a sommare il 47 con 43 quindi i prossimi 90 ripeto milano quindi nazionale scusate bilano venezia e roma roma ok bene da marcus è tutto noi ci risentiamo per le prossime news finalmente martedì si ritorna a lavorare speriamo che il lavoro va di forte e continui come prima e quindi il nostro capo adesso si è annunciato finalmente il ritorno e rientro in azienda quindi ne avremo per qualche mese speriamo bene perché almeno ci tireremo un po su di morale anche su quelle cose lì quindi la cassa integrazione veramente che non arrivava più ragazzi tutto uno schifo unico comunque dai già siamo positivi perché già darmi una notizia per il lavoro sono già molto molto più felice allora noi ci risentiamo alle prossime news domani se c'è qualche variazione ve lo dico poi noi ci sentiremo al mattino presto in settimana perché iniziano a lavorare o se no poi ci sentiremo alla sera perché sei da lavorare quindi dalla mattina alla sera sono impegnato però se riesco prima di andare a lavorare verso le sette sei e mezza sette fare un video poi ve lo dirò comunque grosso modo la previsione che ci tengo a specificare nel gruppo privato è quella con il 90 di venezia con la cinquantina e parte della decina 1 da 10 a 19 vediamo quali saranno i migliori di nuovo grazie a tutti ci risentiamo passate una splendida una splendida domenica e serenamente grazie da marcus